Buongiorno a tutti, do il benvenuto alla dottoressa Francesca Tanzi, psicologa e consulente del centro di ascolto e consulenza sulla SLA di Aisla, benvenuta Francesca. Grazie Stefania, buonasera a tutti. Eccoci qui, allora io vado subito con la prima domanda e ti chiedo che cosa ti ha spinto a occuparti delle persone con SLA? Ma allora quello che mi ha spinto è un lavoro che faccio ormai da diverso tempo rispetto alla disabilità, io ho sempre lavorato nelle malattie diciamo neuromuscolari attraverso la medicina riabilitativa in azienda ospedaliera Parma e sono approdata diciamo alla sclerosi multipla e per ultimo in conseguenza alla SLA a partire dal 2013. La SLA era una malattia che non conoscevo ma comunque insomma l'entourage di persone che mi hanno portato ad affrontare anche questi argomenti e faceva già parte di questo percorso e quindi ho aderito piacevolmente insomma interessata a capire di più rispetto a questo argomento. Grazie e quindi che cosa poi, quali sono state le motivazioni per accogliere la proposta di collaborare con il centro di ascolto di AISL? Ma è chiaro che le motivazioni sono arrivate col tempo, la SLA e quindi insomma la malattia ma anche tutto quello che riguarda la storia delle persone che io ho incontrato mi ha presa tanto da un punto di vista dell'interesse ma veramente anche emotivo e per cui diciamo è venuto naturale che poi ci fosse così un interesse maggiore e anche la il desiderio di poter aiutare e quindi insomma approcciarmi anche a quello che è il centro di ascolto per poter dare una mano rispetto a quelle che sono le mie competenze, la mia area di competenze e la valutazione insomma dei bisogni dei familiari, dei pazienti insomma che impattano in maniera significativa con questa malattia. Ecco allora proprio stando su questo, il fatto di essere di supporto hai detto alle famiglie, ai pazienti, ci puoi raccontare una situazione, un caso che ti ha particolarmente colpita e nel quale è stata evidente insomma sono stati evidenti i risultati del centro di ascolto e naturalmente del tuo operato? Sì, devo dire che è la storia che fino a questo momento mi porto nel cuore in maniera forse più forte, non che le altre siano state meno forti ma questa proprio perché è stata una delle prime mi è rimasta dentro tanto. Si tratta appunto di una persona giovane che ora non c'è più e che io ho conosciuto attraverso la richiesta dei genitori che è stata fatta dal centro di ascolto appunto la situazione di questa persona giovane sposato con figli è stata presa in carico da tutta una serie di professionisti proprio perché c'erano i bambini che erano piccoli, la moglie, i genitori, le sorelle per cui insomma c'era tutto l'entourage familiare che aveva necessità di essere accolto insomma nella sofferenza di questo percorso e aiutato quindi ad affrontare, aiutati tutti insomma ad affrontare la situazione e c'è stato una ulteriore diciamo nella parte finale insomma c'è stato il momento di anche di richiesta di aiuto al centro di ascolto per la parte legale nel senso che il paziente alla fine del suo percorso di vita voleva effettuare una separazione dalla consorte proprio perché insomma l'atteggiamento l'atteggiamento era della moglie insomma non era compiante insomma era difficile per cui lui a quel punto ha richiesto insomma di potersi separare e quindi il centro di ascolto è stato utile proprio perché ha fornito anche la parte legale che ha supportato in questa in questa vicenda insomma finale diciamo così. Ci hai raccontato Francesca di una situazione sicuramente molto complessa dove le problematiche non erano relative soltanto alla persona malata ma si estendevano poi a tutto il nucleo, il nucleo allargato e quindi beh innanzitutto grazie di aver supportato questa famiglia grazie per il tuo supporto al centro di ascolto e speriamo di vederci presto raccontando altre situazioni in cui riusciamo riusciamo a supportare perché questo è un po' il nostro compito è un nostro obiettivo. Quindi grazie alla dottoressa Francesca Tazzi. Grazie, grazie a voi spero di essere stata utile. Grazie. Grazie. Grazie.